Sulla vicenda ex silva all'interno del governo Meloni non c'è un pensiero unico. Intanto sembra arretrare il progetto del ministro del Made in Italy Adolfo Urso che prevedeva un aumento della partecipazione dello Stato in agerie d'Italia dall'attuale 38% al 60% col conseguente cambio ai vertici. E poi il ministro della difesa Guido Crosetto in un tweet che commento privato definisce scrive Ho letto l'intervista della D di Acciaierie d'Italia Morselli, descrive l'ex silva più bella, potente e forte di 4 anni fa. Bel racconto. Poi c'è la realtà, continua Crosetto, alti forni chiusi, cassa integrazione, operai in sciopero, produzione in calo, fornitori disperati. Questa mattina la risposta dell'amministratore delegato Morselli che dice In relazione alle notizie di stampa, Acciaierie d'Italia smentisce ogni iniziativa in corso per l'attivazione, nelle prossime ore, della procedura di amministrazione straordinaria in quanto destituite di ogni fondamento. Acciaierie d'Italia non commenta le notizie riportate sull'andamento dell'azienda ma rassicura i propri dipendenti, fornitori, creditori e clienti sulla prosecuzione delle attività aziendali e conferma il proprio impegno a definire un nuovo accordo di collaborazione con le istituzioni italiane per la prossima fase di sviluppo dell'azienda avendo nel frattempo, si legge, terminato il piano ambientale fissato dall'AIA nell'anno 2012 e ancora Acciaierie d'Italia ricorda che dal novembre 2018 nonostante il Covid, la grave crisi energetica e il conflitto in corso in Est Europa l'azienda ha investito oltre 2 miliardi di euro per rafforzare la qualità produttiva migliorare le prestazioni degli impianti, creare un nuovo centro di ricerca e sviluppo insomma, botta e risposta tra l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia e un rappresentante di spicco del governo Meloni insomma, qualcuno dovrà dire basta per traguardare invece soluzioni reali a questa ormai lunghissima vertenza non dimenticando mai che Taranto non può continuare a vedere il proprio futuro tra le nebbie dell'indecisionismo